Ok, partiamo subito con questo unboxing. Gopro Case. E' perchè l'altra veniva sempre, il suo tasto è sempre sfocato. Questo qui. Ok, questo c'è il veicolo dritto. Ok, questo è il veicolo. Questa è per il GoPro. Ok. Inclosure. Don't you already have one of those? But this one under water, it will make the video much better. Ok. 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 We have wire feathers if you need them. No, 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 no. First you need to go try the um... Jardine Niera. What is the weapon? The Jardine Niera. What is that? It's a pecan vegetable salad that's been hard enough. What is that? What is that? Oh, this one goes there. Okay. Oh, this one goes there. Oh, this one goes there. This one goes there. Okay. 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 Grazie. 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 C'è mai tutti cose di angi. Sì, ma io pensavo che era più facile. C'è praticamente un filo, qui ti bisogna tirare, è scomodissimo Allora, vediamo l'istruzione Il primo parte, l'alphabet, è A, B, A, C, D, E, G, E, H, A, J, I, O, Q The first time is another thing. B, F, M, T, D, the blue, white. The blue, 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 blue. The blue, blue, blue. D, D. D, 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 D. D, D. Stop programing time, link, Tilo. I don't know, hang it there. Chow, clunky. Back on my link, Tilo. Cose di oggi. Cose di oggi. Cose di oggi. Cose di oggi. Allora, per il momento è tutto. Ciao a tutti. Ciao a tutti.